Oggi vediamo tre esercizi per classificare e formare le triadi. Come sapete le triadi sono sovrapposizioni di tre suoni a distanza di terza e in base alla qualità degli intervalli si producono quattro specie di triade, quella maggiore, quella minore, quella aumentata e quella diminuita. Possiamo averle nello stato fondamentale che si indica con 3,5 o con nulla, si dà per scontato questa disposizione, sono fondamentali terza e quinta. In primo rivolto, ovvero quando la terza è nella parte più grave e si indica con 3,6 o soltanto con la cifra 6, oppure in secondo rivolto e si indica con 4,6. Nel secondo rivolto la quinta è al basso. Ma passiamo agli esercizi. Allora, nell'esercizio 1 dobbiamo classificare triadi allo stato fondamentale, quindi saranno tutte con 3,5, ovvero la fondamentale è il suono più grave. Partiamo. Si leggono dal basso verso l'alto. La, do, mi. Analizzo gli intervalli. La, do, terza minore. La, mi, quinta giusta. Quindi si tratta di una triade minore. E allora scrivo anche il nome della fondamentale che è il la, quindi siamo di fronte a la minore. Fa, la, do, fa, la, terza maggiore. Fa, do, quinta giusta. Quindi si tratta della triade di fa maggiore. Re, fa, diesis, la, diesis. Re, fa, diesis è una terza maggiore. Re, la, diesis è una quinta aumentata. Quindi questa è la triade di re aumentata. Si, re, fa, si, re è una terza minore. Si, fa è una quinta diminuita. Quindi questa è la triade di si diminuita. Passiamo all'esercizio numero due. Qui avremo i rivolti. E quindi dovremo scoprire chi è la fondamentale. La fondamentale è data sempre indicata dal numero pari più piccolo. Quindi nel caso del primo rivolto è la sesta. Nel caso del secondo rivolto è la quarta. Vediamo l'esercizio numero due. Fa, si, bemolle, re. Vedo che gli intervalli sono una quarta e una sesta. Quindi questo è un secondo rivolto. La fondamentale è la quarta, cioè il numero pari più piccolo. È il si, bemolle. A questo punto devo ordinare mentalmente in ordine di terza le tre componenti della triade. Si, bemolle, re, fa. Quindi questa è la triade di si, bemolle, maggiore, ma in secondo rivolto con 4, 6. Mi, sol, do, diesis. Mi, sol è una terza minore. Mi, do, diesis è una sesta maggiore. Terza e sesta, 3, 6. Quindi è un primo rivolto. Chi è il numero pari più piccolo? La sesta, quindi il do, diesis. Parto dal do, diesis e metto in ordine di terza le altre note. Do, diesis, mi, sol. Quindi questa è la triade di do, diesis, diminuito. Uso questa scrittura adesso, il cerchio, ma è in primo rivolto. Va bene? Con 6. Qui vi metto un'alternativa nella scrittura della triade. Sol, do, mi, bemolle. Quarta e sesta. Il numero 4 mi indica la fondamentale. Do, mi, bemolle, sol. Quindi questa è una triade di do minore. Lo posso scrivere anche così, tutto in minuscolo. Vuol dire do minore, ma in quarta e sesta. Fa, diesis, la, re. Terza minore, sesta minore. Il numero 6 è la fondamentale, l'unico numero pari. Quindi ordino per terza e a partire dal re. Re, fa, diesis, la. Questa è una triade di re maggiore, ma si trova in primo rivolto. E' chiaro? Questa è una scrittura alternativa. Posso indicare o con le lettere, oppure maiuscolo, minuscolo, un più per la triade aumentata e un cerchio per la triade diminuita. Passiamo all'ultimo esercizio, in cui devo costruire io la triade a partire dalla nota data e vedere se sono necessari rivolti o meno. Triade aumentata sul fa. Cosa mi serve? Mi serve una terza maggiore e una quinta aumentata. La scrivo. Fa, la, do, diesis. Questa è la triade di fa aumentato. Allo stato fondamentale. Terza e quinta. Triade maggiore a partire dal sol. Quindi in quarta e sesta. Sol, do, mi. Chi è la fondamentale di questo accordo? Il numero pari più piccolo, il do. Quindi sarebbe la triade di do, mi, sol. Do maggiore. Ma si presenta allo stato di secondo rivolto. Triade diminuita in quarta e sesta a partire dalla bemolle. La bemolle, re, fa. Chi è la fondamentale di questo accordo? Il numero pari più piccolo. Quindi re. Ordino la triade a partire da questa nota. Re, fa, la, bemolle. Quindi è una triade di re diminuita in secondo rivolto. E l'ultimo. Triade minore in primo rivolto a partire dal do. Do, mi, la. In terza e sesta. Il numero pari più piccolo è il la. Ordino per terze la triade. La, do, mi. Sarebbe la triade di la minore in primo rivolto.